Forse ho perso la gara in pit lane, ma la vita è così, quindi non c'è nulla che ci potevo fare. A volte va così, la cosa più importante è che mi sono divertito, quindi ho molto apprezzato la corso e ho fatto una bella recupero, ho fatto dei bei sorpassi. E' stato bello cercare di inseguire Lewis, però più o meno faceva gli stessi tempi miei, a volte era un po' più veloce, a volte più lento. La cosa più importante è di esserci divertiti.